Oh, eh ? Sor Marchese ? Che c'è ? Che cazzo siete venuti a fare ? Che c'è ? E' una cosa un po' delicata, Sor Marchese. Cioè ? Fausti, diglielo tu. E diglielo. No, non io dico. Ve la siete presa che era ancora una cratura, porella. Mose vergogna. Ma perché ? Che è successo ? Che hai fatto ? Lei niente. Voi che gli avete fatto. Io ? Che ho fatto ? Non fate finta di non capire, è incinta. Ah, e di chi ? A Sor Marchese. Che ? De me ? E di chi, se no ? Sei incinta di me ? Guardami negli occhi. Sei incinta di me ? Si. Ma si non esce mai. Non conosce nessuno. Non vede mai nessuno. Voi ha visto, e voi l'avete... Ma l'avete che ? Da quanto tempo non vado a trovarla ? Più di due mesi. E sono due mesi che c'ha le mancanze. Ah, giusto, giusto. E beh ? Va beh, queste non sono cose che si possono stabilire... Zitta un po'. Zitta un po'. Ma che ore ? Sono le sei. E già, le sei. Allora perché ha suonato tre volte ? Deve essere l'appello segreto del Papa, questo. Oh, che non lo deve sapere nessuno, eh. Convoca la Guardia Nobile d'Urgenza. Deve essere una cosa grossa, questa. E va beh, e con sto coso che deve nascere, se deve nascere, ne riparleremo un'altra volta. Adesso c'ho cose più importanti da fare io. Ah, 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 oh. Meggera. Non ci vende più qui, eh. Ne faccio io io. Ma tu hai capito sì che roba. Noi. Grazie a tutti.